La Fondazione MAC ha partecipato anche quest'anno alla Giornata Nazionale della Bioeconomia che si tiene in numerose regioni e province italiane, promossa e coordinata dal cluster della Chimica Verde e da Sobiotech. La Fondazione MAC è associata al cluster della Bioeconomia. Il tema, individuato quest'anno per un'azione di informazione e di sensibilizzazione ad ampio spettro, quindi rivolta a tutti gli interessati, è il suolo. Sia perché il suolo è un tema di ricerca e di sperimentazione trasversale all'interno dei centri e delle strutture presenti nella Fondazione MAC, sia perché il suolo è un cardine della bioeconomia circolare che si fonda sulla sicurezza alimentare, sull'uso sostenibile delle risorse non rinnovabili, quindi sul riutilizzo e il riciclo dei nutrienti della sostanza organica che ritornano al suolo come apportatori di nutrienti, di sostanza organica e quindi la riduzione di input di fertilizzanti di sintesi, la riduzione di prodotti esterni a quello che sono i cicli naturali delle risorse vengono mano a mano sostituiti grazie alla circolarità dei macrosettori principali che attuano l'economia, che sono l'agricoltura, l'agroindustria, il settore delle foreste e poi l'industria bio-based, quindi l'industria che utilizza scarti e sottoprodotti per la rigenerazione di nuove molecole e nuovi building blocks per il reinserimento nuovamente nei cicli produttivi.